Lavoratori sfruttati, spesso si tratta di immigrati, magari con falsi attestati, come abbiamo visto in apertura di giornale. Persone destinate a lavorare in nero senza le minime tutele e garanzie. Continua la nostra campagna sulla sicurezza sul lavoro. Oggi ci occupiamo proprio delle partite IVA nel campo dell'edilizia, spesso in poste per aggerare le regole. Servizio di Franz Giordano. Io lavoravo e mi segnavano 4 ore a lavorare e 4 ore di castigrazione. Mi hanno fatto due anni di seguito. Il suo nome non ce lo dice, ma la sua non è una storia isolata. Dopo averlo messo in cassa integrazione, i titolari della ditta lo facevano lavorare in nero. Poi un giorno gli hanno detto di aprirsi la partita IVA. Lui ha rinunciato e ora è disoccupato. Adesso se non lavori in questa maniera con una partita IVA sei tagliato fuori. Con la crisi nell'edilizia c'è stato un boom delle aziende individuali. In Emilia Romagna sono più di 50.000, il 66% del totale. Muratori imprenditori che nei cantieri fanno le stesse cose di prima, ma senza tutele dagli infortuni, coi contributi da versare, costretti a contrattare su ogni cosa. Cosa vuoi per fare quel lavoro lì? Ti danno le ore. E tu devi stare lì entro quelle ore. Devi correre come un matto. E poi la fretta è la causa degli infortuni. Siamo più regattabili e siamo più responsabili del lavoro. Per costare meno diventano degli autonomi che non hanno però in sé le caratteristiche di autonomia necessarie e previste dalla norma. False partite IVA dunque, in un contesto in cui anche i manovali dipendenti rinunciano spesso a casco e imbracatura. Molte volte abbiamo la stessa punteggio, velocemente, con le scale se abbiamo la stessa imbracatura, per fare le cose più veloci. Fare più veloce e risparmiare tempo lo ripetono tutti. Il lavoratore dipendente però ha l'obbligo di seguire corsi sulla sicurezza. E le partite IVA? Una partita IVA non ha l'onere di essere formato, di essersi autoformato rispetto ai rischi che un'attività pericolosa come quella del cantiere comporta. Sono tutte cose che dovremmo fare noi a pagamento noi. Dove vado a prendere i soldi? Faccio già fatica a pagarmi i contributi. Dovresti guadagnare attorno ai 180-200 euro al giorno. Però in una situazione di a parte, sub a parte e conto sub a parte, quando si prendono 80-90 euro, bella grazia. E in questa giungla aumentano quelli che si improvvisano artigiani. Non hanno l'esperienza, le devi sempre aiutare e guidare. Fai così che non ti fai male, muoviti così che non ti fai male. In questi anni diversi ministri del lavoro hanno annunciato misure per contrastare il fenomeno delle false partite IVA. Intanto si continua a morire. L'ultima vittima nel Bolognese, un muratore caduto da un balcone il 6 giugno, era iscritto alla Camera di Commercio di Bari come ditta individuale.